Guarda, andiamo tutti insieme e dico... Scusa, ma c'è la voglia tutta sbrillucci i cosi? Sbrillucci! Emozionale che sta vicino? Tutte queste luci, queste cose... Ma è facilissimo, guarda... Che ci vuole? 3, 2, 1, qui! Ciao a tutti e benvenuti in Puravita 2.0 Oggi siamo qui con Andrea Ciao E Antonia Una nostra splendida coppia di Puravita 2.0 O cos'è che ti ha portato in Puravita la prima volta? Allora, io sono sempre stato uno sportivo Quindi ho frequentato tante palestre L'ultima che ho frequentato prima della chiusura del lockdown Ovviamente anche lì ci siamo fermati E ci hanno lasciato a casa senza corsi Stando a casa, vedevo invece Invece Antonia continuava ad allenarsi con le lezioni online Che in Puravita gli proponeva Quindi lì ho avuto modo di vedere queste lezioni Apprezzare la professionalità degli vari istruttori che si alternavano E così quando c'è stata la riapertura Non ci ho pensato due volte Mi sono iscritto anche io a Puravita Devo dire che sono veramente contento E niente, sono sempre alla ricerca di qualcosa Che possa così migliorare sempre di più le mie prestazioni Al momento dell'iscrizione Non ho fatto l'iscrizione e sono stato inserito nei corsi E basta Abbiamo fatto prima un bel colloquio multidisciplinare Diciamo con le varie istruttrici Per capire quali erano le mie problematiche Se ce ne erano e ce ne stanno, va sicuro Le mie aspettative In modo che così abbiamo cercato di inquadrare Quale fosse l'attività più consola, diciamo, al mio caso E ho migliorato sicuramente la postura Che era uno dei miei grossi problemi Tante tensioni muscolari che avevo accumulato Nei precedenti corsi in altre palestre E anche sicurezza a me stesso Perché questo mi fa stare meglio Non so, non siamo meglio con gli altri Arrivato a fare un'intervista Certo, c'è qualcosa che... Non tutti mi dicono di sì Fa il modesto poi Perché in realtà Lui ha fatto un abbonamento Cooper Cioè fa tutto Ecco, ha iniziato provando Adesso proprio si è dedicato totalmente a Pura Vida Perché diciamo in Pura Vida adesso no Perché non ti senti un iscritto E basta Cioè ti senti come... Che fai parte di Pura Vida Cioè come se fosse, tra virgolette, una famiglia È più un club dove ci sono... Siamo tanti amici che ci conosciamo Oltre ad allenarci insieme Voglio, ha creato questo bel gruppo Dove partecipiamo, come dicevi tu A tutte queste iniziative Che può essere il trekking Il teatro La visita La partecipazione alla Reis E tante altre Che fanno sì che ci legano Ci tengono insieme Per cui è... Diciamo che non ti senti un iscritto Poi è bello entrare in una palestra E trovare sempre il sorriso Parlare con persone disponibili Cioè è un clima veramente particolare Che mi ha provato Io ho provato altre palestre Ma non ho mai trovato una realtà così Sono sincero Grazie Sono contenta perché ho questa coppia Che è veramente... Dà un buon esempio a tutto Questo è bellissimo Perché l'amore dello sport L'amore per lo sport Ragazzi, io... Quando vi riparo Mi lupino di penso Devo dire che forse era una cosa che ci mancava Aveva anche la palestra in coma Perché poi viene rivelto Siamo sempre insieme In qualsiasi iniziativa Per qualsiasi attività Quindi in effetti Ci mancava solo una palestra Ed è bello Pura vita è anche questo E anche questo Allora, io ringrazio Andrea Per queste parole stupende Anche Antonio naturalmente Grazie per fare questo percorso insieme a noi Allora, vi vediamo Alla prossima video recensione Alla prossima Ciao a tutti Pura vita a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti